Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la politica cittadina, il sindaco Palomba risponde alle forze di opposizione ieri assenti in aula e fa il punto sui provvedimenti adottati in consiglio comunale tra gli atti passati, la riduzione delle tariffe tari per le attività commerciali e per le famiglie. Ne abbiamo parlato con l'assessore Anna Rita Ottaviano. Parliamo ora di sanità a rischio, chiusura e reparto di ginecologia ostetricia della clinica Santa Maria Labruna. L'appello alle istituzioni arriva dal presidente dell'Associazione per il rilancio di Torre del Greco. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano. A Torre del Greco si registra nuovamente un lieve aumento dei casi. Si torna a superare i 100. In chiusura la sicurezza stradale. Arriva il divieto di sosta in via Cupa Camaldoli dopo i video denuncia dei cittadini e la lettera dell'assessore Mirabella. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Il sindaco Giovanni Palomba risponde ai consiglieri di opposizione che ieri hanno disertato l'aula del Consiglio Comunale a Palazzo Baronale ritrovandosi a Piazza Santa Croce con l'intento di rassegnare le proprie dimissioni. Un appello lanciato nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle a cui però non hanno aderito tutte le forze di opposizione. Intanto nel corso della seduta del Consiglio sono stati approvati diversi atti e provvedimenti. Io penso che l'opposizione stasera ha dato il meglio di se stesso. Sapendo che si votavano atti importantissimi, lavori per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda le strade, l'asfalto, tutta una serie di opere che verranno messe nei prossimi mesi a disposizione della cittadinanza. Abbiamo dato una variazione di 5 milioni di euro per tante iniziative da attuare a Torre dei Crecchi. Ma la cosa più importante è che noi abbiamo votato la tariffa Tari, che normalmente è aumentata non per problemi dei comuni, ma per la Sappana e la gestione della città metropolitana, che ogni anno aumenta per quanto riguarda il rifiuto che noi andiamo a portare in discarica. E in questo momento noi siamo riusciti ad azzerarlo sia per quanto riguarda le unità abitative, con un'isee fino a 24 mila euro, quindi possono fare romanti, quindi c'è una riflessione, e sia per tutte le attività non domestiche colpite dal Covid. Allora ecco perché l'opposizione, che non poteva essere presente, perché non potevano votare atti così importanti e così importanti per i nostri cittadini, ha organizzato quello che poi io ritengo una festa più che altro per loro, una festa in Santa Croce dove sembra che praticamente le firme sono o 5 o 6 o 7, ma per arrivare ce ne vogliono 13. Noi consiglieri comunali, 14 consiglieri comunali, siamo in aula di consigliare, abbiamo approvato tutti questi altri e ci sentiamo tranquilli per la nostra città. Assessore Annerita Ottaviano, ieri in Consiglio Comunale l'approvazione di un importante provvedimento, la riduzione dell'Atari sia per le attività commerciali che per le famiglie, spieghiamo dettagliatamente questa riduzione, che cosa prevede? Per quanto riguarda le utenze non domestiche, il Comune di Torre de Greco ha messo a disposizione un fondo pari a un milione e due. Ovviamente si tratta di fondi Covid provenienti dallo Stato, d'aiuti di Stato, e consiste praticamente nella riduzione pari al 100% per il primo semestre per il 2021. Tutte le attività che hanno subito un calo di attività, un calo di fatturato a causa del Covid avranno questa esenzione. Stiamo parlando di ristoranti, di alberghi, di bar, di pasticcerie, di parrucchieri, estetisti, eccetera, eccetera. Poi ci saranno i codici che indicano quali sono le attività. Ed è una riduzione pari al 100% per i primi sei mesi, quindi non dovranno pagare nulla? Non dovranno pagare nulla, ma bisogna comunque presentare una domanda al Comune per dimostrare la riduzione che si avuta. La stessa ipotesi è posta anche per quanto riguarda le utenze domestiche. Vuol dire che praticamente il Comune di Torre de Greco, in riferimento a un fondo di solidarietà a disposizione delle famiglie, l'ha messo a disposizione per l'Atari. Si tratta di un fondo di 1.4 milione e quindi sarà utilizzato fino a concorrenza. Questo vuol dire che tutte le famiglie con un ise fino a 10.000 euro avranno una riduzione della parte variabile del 50%, fino a 15.000 euro del 30% e un ise fino a 24.000 euro pari al 20%. Gli uffici di Torre de Greco in questo momento sono già in collaborazione con la Pubblico Servizi per stabilire la documentazione. Fra poco sul sito del Comune di Torre de Greco sarà pubblicata la modalità che entro il 15 d'ottobre tutti gli interessati dovranno far prevenire la domanda al Comune per poter soffrire delle esenzioni. La prima rata sarà pagata entro il 30 a 11.000 euro, saranno rati bimestrali, gennaio, marzo e maggio. Quindi una novità importante è che il Comune ha voluto soprattutto per far fronte alle difficoltà economiche legate alla pandemia. Sì, ma soprattutto anche perché il Comune di Torre de Greco è tra le città della Campania che ha subito maggiormente. Ci sono stati degli incontri con i commercianti i quali ci hanno attenzionato più volte sulle difficoltà che hanno incontrato sia nel corso del 2020 e anche all'inizio del 2021. E quindi è stato un ascolto da parte del Comune. Ci sono stati fondi messi a disposizione da parte del Governo. Potevamo utilizzarli in maniera differente, ma abbiamo preferito utilizzarli in tal senso e accontentare sia le attività non domestiche che le famiglie, perché ci sono anche tante famiglie che hanno subito questa crisi. Vuoi perché hanno perso un posto di lavoro, perché sono stati messi in cassa integrazione e anche perché sono stati colpiti dalla stessa pandemia che ha messo un po' in ginocchio. E quindi è un modo per dire alla popolazione, il Comune c'è, il Comune ascolta ed è stato proprio questo l'indirizzo politico da parte del Sindaco Giovanni Palumba. Carlo Sceglia, negli studi di TV City, il Presidente dell'Associazione per il Rilancio di Torre del Greco. C'è preoccupazione per il rischio chiusura del reparto di ginecologia ostetricia della Clinica di Santa Maria Labruna. una notizia che desta molta preoccupazione e sarebbe un'ennesima perdita per questa città. Sì, l'ennesima perdita. Abbiamo ascoltato e sentito le preoccupazioni della proprietà della clinica, con i dipendenti che lavorano, che ci hanno posto questa problematica. si rischia ancora di perdere l'ennesimo presidio sanitario che c'è sul territorio di Torre del Greco, un presidio fondamentale per far nascere bambini nel Comune di Torre del Greco. Noi questo lo dobbiamo scongiurare. Un presidio fondamentale, lo ricordiamo, considerato anche il fatto che nel pubblico a Torre del Greco non c'è più un polo di maternità all'ospedale Maresca. Questo servizio manca ormai già da anni. Sì, dopo il ripotenziamento dell'ospedale Maresca, questo servizio dalle strutture pubbliche non è più offerto. È garantito solamente da questa clinica, dalla clinica Santa Maria della Bruna. Facciamo un appello alle istituzioni a livello locale e a livello regionale? L'appello sicuramente noi lo facciamo al Comune, nella persona del nostro sindaco Giovanni Palomba, ma anche verso i riferimenti regionali, visto che la sanità regionale è finalmente uscita dal commissariamento, di fare finalmente una programmazione seria, concreta, che queste strutture possono andare avanti e possono ricevere quei convenzionamenti e quelle convenzioni per offrire servizi importanti e fondamentali nelle città. Tornano ad aumentare levemente i contagi. Nel Comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, nessuna nuova guarigione è stata registrata. Si certificano invece 10 nuovi positivi. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 94 attualmente positivi, di cui 17 ospedalizzati. Nel Comune di Torre Annunziata, invece, registrati due nuovi casi di contagio da Covid-19, a fronte di 68 tamponi processati. Registrati due nuovi casi di contagio da Covid-19, a fronte di 68 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 2,94%. Al contempo si registrano anche due guarigioni. Sono 25 i cittadini attualmente positivi. Arriva il divieto di sosta in via Cupacamaldoli, a Torre del Greco. Un provvedimento a firma del dirigente del nono settore di Polizia Locale e Protezioni Civile, Salvatore Visone, dopo le criticità segnalate dall'assessore alla NU Cinzia Mirabella, a seguito di numerosi videodenuncia dei cittadini. Una strada pericolosa e a rischio cadute, resa ancora più scivolosa dai liquidi presenti sulla carreggiata, per le operazioni di trasbordo non a norma. L'ultimo incidente solo pochi giorni fa. Il provvedimento infatti nasce in considerazione del fatto che via Cupacamaldoli è una strada attualmente a doppio senso di circolazione, le cui caratteristiche strutturali non consentono adeguate condizioni per la sosta dei veicoli, nonché al fine di favorire la circolazione degli utenti della strada e garantire la tutela della pubblica incolumità. Con l'ordinanza dirigenziale del 28 luglio si istituisce in via Cupacamaldoli, nella direzione da via nazionale a via sotto i camaldoli, di vieto di sosta e fermata H24, nella direzione da via sotto i camaldoli a via nazionale, di vieto di sosta H24. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazione-tvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS